Siamo in compagnia di Annore Blasio, organizzatrice di Pettin Fiera, l'ho venuto con tenente. Raccontaci un po' quello che sta succedendo per me, a disposizione di Fabia. Eccoci, ciao a tutti. Io ho appena finito la presentazione felina, perché quest'anno abbiamo anche l'aria felina e abbiamo dei gatti bellissimi, quindi è stato un onore poterli presentare nel ring d'onore. Adesso ci saranno degli interventi nel ring d'onore per poi arrivare alla premiazione delle rasse che hanno partecipato all'evento Enci, che finalmente è arrivato a Pavia dopo 20 anni. Per quanto mi riguarda è davvero un fiore all'occhiello, poter dire che Pettin Fiera sta ospitando Enci. Ma non abbiamo solo quello, abbiamo la piscina che aspetta i nostri amici a quattro zampe con gli istruttori dei SIX, che è la scuola italiana Salvataggio. Abbiamo gli artisti nell'area dell'arte che aspettano i bambini per poter fare dei lavori insieme e poi ci sono tutti i nostri espositori, quindi venite da noi, venite a conoscerci, venite a passare un bel pomeriggio insieme a noi. Ciao a tutti, a presto!